Numerosa e qualificata presenza dimostra quanto sia stata importante la visita del Ministro nella sede della nostra federazione. Personalmente ho apprezzato molto il gesto del Ministro, devo dire non programmato per oggi, ma non nelle ultime ore, ma è una programmazione che è avvenuta diverso tempo fa. Quella l'abbiamo dovuto disdire per altre ragioni, l'abbiamo riconfermata e sono molto contento di questo incontro. Un incontro che è stato l'occasione per una serie di riflessioni. Personalmente ho tratto spunto da diversi argomenti che abbiamo trattato. Avete sentito voi stessi il Ministro sotto il profilo di quella che è una preoccupazione generale legata al campionato sì, campionato no. Noi con la nostra determinazione riteniamo che dobbiamo andare avanti nel chiudere questo campionato nel miglior modo possibile, sapendo che dobbiamo anche essere molto responsabili e anche lungimiranti nell'essere pronti comunque ad affrontare eventuali criticità che durante l'anno dovessero presentarsi. Il campionato quindi segue il suo corso naturale. Protocollo sì, protocollo no. Noi crediamo molto in questo protocollo. L'abbiamo ottenuto, l'abbiamo difeso e lo difenderemo ancora perché riteniamo che sia un protocollo chiaro che richiede comunque un grande senso di responsabilità da parte di tutti. Non solo da parte dei nostri dirigenti ma anche da parte di chi effettivamente deve sul territorio verificare caso per caso eventuali casi di emergenza, giustificando e motivando eventuali interventi che vanno in deroga a questo protocollo. Quindi siamo particolarmente soddisfatti. Con il Ministro abbiamo affrontato temi a noi molto ma molto cari come anche la crisi economico-finanziare delle nostre società. Un tema che per molti passa in secondo piano ma per noi oggi diventa un elemento di grande confronto, di grande discussione e vi dico che è davvero oggi il momento di grande criticità per le nostre società. Io e Napoli si profila un 3 a 0 a tavolino, Presidente, visto quello che ha detto anche... No, 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 scusate. Noi abbiamo un giudice sportivo che deve fare il giudice sportivo. Poi lo vedo, abbiamo una procura federale che fa la procura federale e in queste ore sento comunicazioni, messaggi, interpretazioni. Io su questo non entro proprio nel merito. Cerco di essere serio e quindi faccio il Presidente federale, rispetto i ruoli e l'auspicio che altri facciano la stessa cosa. Presidente, sia lei che il Ministro avete parlato di senso di responsabilità, ecco, ma non c'è l'esigenza di dare dei confini più netti a questo senso di responsabilità perché poi anche a leggere la vicenda Juve-Napoli sembra che chiunque abbia agito nell'interesse supremo, evidentemente, almeno delle intenzioni. Ma questo lo accerteranno gli organi competenti. Io ritengo che il nostro protocollo è un protocollo chiaro. Devo dire che ha funzionato in un momento di grande criticità. Non capisco perché non debba funzionare anche per il futuro. Abbiamo avuto casi analoghi a quello che è successo a Napoli. Ci sono casi analoghi a livello internazionale che fanno scuola. Noi non siamo un paese estraneo al mondo, non siamo estranei alla nostra Europa. Tutti sanno che cosa è successo in Francia, tutti sanno quello che è successo in Germania, in Inghilterra e in Francia. Dobbiamo vivere, e lo diciamo tutti da sempre, dobbiamo convivere con questa epidemia. Ma per chi dice che noi siamo irresponsabili nel non pensare di tutelare la salute, dice una corbelleria incredibile. Mai nessuno come noi in questo momento sostiene che la tutela della salute è un bene primario. Quindi noi siamo sintonizzati con il Ministro Speranza, siamo sintonizzati con tutti coloro che hanno a cuore questo tema. E noi non facciamo un grande senso di responsabilità. Certo, sappiamo benissimo che dobbiamo convivere. E ci troviamo i migliori passaggi ed equilibri per fare competizione sportiva sempre regata all'obbligo. Presidente, a sentire dell'Aurentis. Presidente, a sentire dell'Aurentis. No, non l'ho sentito e non c'è motivo di sentirlo. L'ultima, in pratica anche dalle parole del Ministro, sembra venire fuori che l'intervento dell'Asle di Napoli possa essere un'eccezione. Questo è un auspicio, ma noi non conosciamo, voglio dire, quelli che potranno essere le condizioni future del nostro Paese. Se tutti abbiamo a cuore la tutela della salute, se il protocollo viene rispettato nella sua integrità da tutti, io credo che noi possiamo essere tranquilli, che il campionato di calcio si può disputare, si può svolgere nelle condizioni di sicurezza. Certo, se cominciano ad esserci delle falle, qualcuno sbaglia e qualcuno se ha sbagliato deve pagare.